Il fondatore Bob Anderson è considerato il padre fondatore dello stretching, che ha ideato uno stretching di tipo statico. Le principali tipologie di stretching, ve le elenco brevemente, sono lo stretching statico, che prevede dal nome stesso l'allungamento. Allungo un muscolo e mantengo quella posizione per un tempo prolungato. Uno stretching di tipo dinamico è uno stretching che prevede dei movimenti di oscillazione ed è spesso consigliato prima di un allenamento. Un allenamento che prevede dei cambi di ritmo, l'allenamento delle ripetute. Tendenzialmente io da ex velocista lo usavo molto, quando invece dovete fare lungo lento è sufficiente un buon riscaldamento. Il PNF, che è un tipo di stretching che voi magari usate poco, è uno stretching che si utilizza molto in riabilitazione. Prevede sostanzialmente quattro step, una prima fase di allungamento del muscolo, un mantenimento di quella posizione, una contrazione isometrica per un 20-25 secondi, un terzo step di rilasciamento e un successivo allungamento. Ma appunto voi magari negli allenamenti non lo usate molto. Uno stretching tipo balistico, che invece è uno stretching che è stato criticato tanto e ora non viene più usato, però ai tempi si usava, che è quel classico stretching che prevede un allungamento e dei molleggi successivi, ma ora davvero viene usato pochissimo. E uno stretching in catena, che io da osteopata adoro e uso tantissimo, da usare però lontano dalle sedute di allenamento. E se abbinato a una corretta respirazione, secondo me è davvero molto funzionale. Prevede proprio l'allungamento di quelle che sono le catene miofasciali, che sono principalmente cinque, e quella più retratta, più accorciata per il runner, è quella posteriore, che parte proprio dalla base del cranio e arriva fino ai piedi. Rientra in quello stretching tipo statico, però quello statico è più distrettuale, quindi per esempio allungo un polpaccio, allungo un quadricipite. Se lo stretching favorisce o meno il recupero, allora anche questo è un tema molto discusso, perché al termine dell'allenamento il muscolo si presenta in ipertono e allungarlo in maniera prolungata ed eccessiva può creare addirittura di danni muscolari. Inoltre lo stretching sempre prolungato, quindi per un tempo superiore, quando si fa un minuto e mezzo, un minuto di stretching, crea vasocostrizione, quindi arriva meno sangue al muscolo, che dopo l'allenamento ha bisogno di sangue per recuperare meglio. Quindi dopo l'allenamento lo stretching consigliato è sì di tipo statico, ma per un tempo inferiore ai 10 secondi circa. Lo stretching invece per un tempo prolungato, io lo consiglio sempre, è consigliato in sedute lontane dall'allenamento. Quindi, ricapitolando quando fare stretching, prima dell'allenamento in maniera dinamica se l'allenamento prevede delle ripetute o dei cambi di ritmo, altrimenti è sufficiente un buon riscaldamento. Lo stretching statico per un tempo inferiore di 10 secondi dopo l'allenamento e uno stretching invece statico prolungato o in catena per in sedute lontane dall'allenamento. Questo abbinato a una corretta respirazione che è davvero molto importante e spesso viene anche trascurata. Io vabbè, da osteopata sto molto attenta comunque a questo fattore. Perché è importante lo stretching per la salute? In sostanza è importante perché le posture che noi, perché quando parliamo con atleti, gli atleti professionisti stanno attenti davvero a tutto, ma noi amatori, adesso dico noi perché anch'io sono diventata un amatore, assumiamo delle posture durante la nostra quotidianità che ci portano ad essere molto più rigidi, molto più, per esempio, chi lavora al computer, molto più chiusi e appunto lo stretching ci aiuta a mantenere un buon ROM articolare, quindi un range of motion, un range di movimento all'interno del quale le articolazioni si muovono in sostanza. E quindi lo stretching per la salute davvero io lo consiglio a tutti.